Buongiorno a Michele, al signor Domenico, al signor Nicola e abbiamo anche l'onore di avere un pepino di vita, qui è la festa di San Vettorio, il 28 aprile del 2017, tutti gli anni si fa la festa di San Vettorio e quasi tutti gli anni però si è fatta, durante la guerra chissà se si è fatta, questa è una bella notte, volevo domandare una cosa a Michele, Michele ieri sarebbe sentito l'orchestra che stava a fare? no ma li ho muovere forte, mi hanno fatto una cosa e non ho fatto, non ho fatto, non ho fatto. questa noce è aperta, una volta è chiusa però a San De Salve se dici più abbastanza mamma mi ha fatto una cucina e non tu non ecci non tu amore, non tu amore ma se era come il Baianzi, il cino, e tu stai attento a quello ma il Baianzi è qui? si, si mette lì, quando si fa venire quale è il Baianzi? e il Dunecci? si mette il Wain ti ricordi quando si piste? quando si pisteva lì? oh, si pisteva che ripite? quando si metteva? non c'è nemmeno non c'è nemmeno non c'è nemmeno allora io riserva per stendere l'orchestra che si è fatta la cucina non c'è